Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Si è svolta nella sala stampa Reghini del Franchi La conferenza del tecnico Viola Pioli In presentazione alla sfida con il Torino L'allenatore Gigliato ha confermato l'assenza di Federico Chiesa Ancora alle prese con i vecchi acciacchi La fascia di capitano così andrà sul braccio di Marco Benassi Domenica a tornare al Franchi sarà anche l'arbitro Pasqua Disegnato per la gara tra Viola e Granata Il direttore di gara durante Fiorentina Benevento della scorsa stagione La prima gara dopo la scomparsa di Davide Astori Si lasciò andare ad un abbraccio il capitano di allora Badeli Intanto per il futuro della panchina Viola Resiste forte il nome dell'ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco La Fiorentina conta molto sugli ottimi rapporti con la gente ramadani Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola